Pollica. Salerno. Cristian D'Urso diffida il comune per la mancanza di spiagge attrezzate per le persone con disabilità. In caso di mancato adempimento, Cristian si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per tutelare i propri diritti e quelli delle persone con disabilità. Continua la battaglia di Cristian D'Urso, per rendere accessibile il Cilento. Cristian D'Urso, giovane di Capri ma originario di Agropoli, affetto da disabilità motoria. Su www.lavocedelmeridione.com il testo della diffida.